Sì, bisogna potenziare le misure per la crescita. Il Paese non può reggere a lungo, la disoccupazione è cresciuta tantissimo, nuovi posti di lavoro non se ne creano, le aziende sono in grave difficoltà. È necessario quindi agire per invertire questo ciclo, perché se durasse ancora noi arriveremmo stremati nella fase in cui l'Europa si riprenderà. È importante quindi concentrare le energie, questo è un primo passo che aggiunge strumenti rispetto a quelli varati con le liberalizzazioni, ma bisogna potenziare le politiche per lo sviluppo.